Il giorno 4 è stato forse il giorno con le navigazioni più belle perché abbiamo navigato un lungo tratto dell'Adda fino alla centrale Taccani, poi ci siamo rimbarcati sulla Martesana a Concesa nei pressi del santuario e abbiamo percorso tutta la Martesana passando dal Rodound di Leonardo a Groppello e arrivando poi a Milano fino alla Cassina de Pomme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.